Rarità leggendaria di skin in arrivo su Squadbusters Nel video di oggi parliamo delle nuove skin che potrebbero arrivare dentro questo gioco quasi sicuramente Ad un prezzo assurdo, potrebbero costare davvero un sacco Tutto nel video di oggi ma prima di iniziare vi raccomando sempre solo una cosa Like, iscrizione e campanellina per supportarmi per farvi altri contenuti assurdi su Squadbusters Grazie per chi lo farà è gratis, grazie mille Ma partiamo subitissimo Eccoci dentro Squadbusters, abbiamo da riscattare innanzitutto la cassetta E ci possiamo potenziare il nostro re royale, ottimo Nuovo evento con Tara, probabilmente personaggio che arriverà breve dentro il gioco Quindi occhiolino, occhiolino per chi ha visto gli scorsi video Sa che questo bellissimo personaggio, Tara, potrebbe essere un personaggio O meglio, lo sarà al 100%, tocca solo aspettare Per il resto qua abbiamo un ritirapremi dal nostro pignatone Che ci andiamo ad unboxare subitissimo Eccolo qua, ci dà 5 esperta di gare armati 5.000 di gold, ma mica male 30 ticket, 11 martelli e ben 2 ticket Vabbè raga, può andare meglio ma può andare anche molto peggio Problemone gigantesco, manca un giorno e 15 ore Io ancora non ho completato l'evento Mi tocca fare ancora... Eh, ancora un bel po' ragazzi, ancora un bel po' Tocca tragiardare tra oggi e domani Ci possiamo potenziare la nostra tank, esperta di gare armati Riscattiamoci un po' di Energon dell'evento globale che male non fanno 2 boh e con le cose giornaliere dovremmo aver fatto Sì, abbiamo fatto No, abbiamo pure una bella cassa epica dell'evento Almeno andiamo un po' avanti Epico, grande, epico grande Un bel grandissimo, niente grandissimo Però aspetta che forse mi dà un bel contenuto Almeno 6, va bene, 6 epico ci sta 6 epico ci sta, non mi lamento Abbiamo pure una cassetta comune Ragazzi, allora mi sa che sto evento lo completiamo al 100% Comune grande Vediamo cosa mi dà 5 gregoni Buono Potenzialmente non ne possiamo fare E abbiamo concluso Tra 2 giorni e 15 ore è un nuovo pass Quindi tenetevi pronti che i contenuti stanno tornando Ma perché parliamo delle skin? Ragazzi, che cosa è successo? Se andiamo su qualche personaggio Non so, l'esperta dei gare armati Possiamo notare tutti quanti come l'esperta dei gare armati Abbia una skin E attenzione, accanto al nome della skin Hamburger armato Abbiamo un pennino di una skin Di un appendiabili Argentato Cosa vuol dire questo? Eccoci qua di nuovo Come vedete, accanto alla skin c'è scritto C'è questa icona, ok? Argentata Voi direte, vabbè, ma tutte le skin C'hanno questa cosa, Kirri? Ebbene no ragazzi Sì, pure il domatore ce l'ha Pure Dana Mike Però lo stregone, ragazzi Lui, lui Ha una cosa di legno Ha un appendiabili di legno E al momento controllato Tutti i personaggi ce l'hanno O di legno Se hanno una skin abbastanza nella norma O di metallo Se hanno una skin D'argento Come volete chiamarla voi Se hanno una skin un po' più rara Come può essere quella di Maxine Ragazzi Mi sa che qua Abbiamo capito una cosa Ora, ora vi racconto Ora vi racconto perché Qua abbiamo una rivoluzione All'interno dei cosmetici Nuovi prezzi Nuovi costi molto alti Vi faccio l'esempio del domatore di cinghiali Che forse è il più completo possibile Il domatore di cinghiali Ragazzi Ha ben tre skin La versione normale Che quindi manco è una skin Non la consideriamo La versione della skin in legno Quindi una skin non troppo rara Non troppo costosa Una skin nella media Ok infatti ha il pinnino di legno Come vediamo pure graficamente Non cambia poi nemmeno così tanto Cioè il personaggio rimane Più che altro invariato Ha solo qualche cambiamento estetico di texture E qualche effetto Esatto Gli effetti ce l'ha Ma poi abbiamo le skin Con la versione argentata Che cambiano totalmente di texture E che dovrebbero cambiare Eppure esatto ragazzi Abbiamo effetti nuovi del martello Grafiche differenti Al momento noi Come vi ho detto fin dall'inizio Abbiamo solo queste tre Due versioni Senza contare quella predefinita Ma abbiamo legno e argento E se andiamo un attimino sul polletto Forse riusciamo a vedere pure altri contenuti Ecco Tipo la gallina Al momento ragazzi La gallina ne ha due di legno Quindi due skin Che dal gioco vengono definite Mid Che quindi il cambiamento è minimo Non cambia poi così tanto Ok? Dalla predefinita E tra poco uscirà questa qui Che dovrebbe uscire credo lunedì ragazzi Queste skin robotiche usciranno lunedì Le scioppiamo quindi campanellina Questa skin probabilmente sarà già una skin argentata Oppure potrebbe arrivare la nuova rarità La rarità gold Ok? Cos'è la rarità gold? È una rarità che abbiamo visto nel trailer ufficiale del gioco E che ora vi mostro Eccoci qua nel canale youtube ufficiale di Squad Busters Eccoci qui Nel video che ormai so passate due settimane ragazzi Il tempo qua vola realmente un botto Eccoci qua In questo video in particolare Se indaghiamo bene Dovremmo trovare una zona Dove vengono mostrate delle nuove skin Con il pennino della pen di abiti Non di legno Non argentato Ma gold Questo ragazzi cambia tutto Sia per una questione di prezzi Che adesso vi dirò Secondo me Quanto andranno a costare le skin gold Ma sia per una questione di Come si sbloccano ste skin Saranno skin gratis Staremo a vedere comunque Mi raccomando ragazzi Iscrizione e campanellina Allora queste prime skin Non hanno nulla di differente Infatti come vedete Mi sa che saranno di rarità Argentata ok Sono skin argentate Secondo me Ma dal prossimo aggiornamento Quindi da ottobre Oppure già tra qualche settimana Potrebbero arrivare le skin gold Ora vi mostro Sto cercando il momento ragazzi In cui Mostra le skin Perché ancora qua Non si vede niente C'è un frangente Ok Qua potremmo avere il contenuto Esatto Forse da ottobre Dovremmo avere queste skin gold Da qua Ok No le skin queste qui Sono tutte uguali Anche se secondo me Ce ne sarà una gold Infatti Non si vede Nel trailer ufficiale Ma riusciamo a vedere Questa cosa Tramite alcuni video sneak peek Fatti da altri content creator Infatti Se andiamo a controllare bene Tra le nuove skin Che arrivavano in questo aggiornamento Tramite un creator Spagnolo Brasiliano Porto Quello che è Siamo riusciti a vedere Che abbiamo la rarità Di legno Rarità Argentata E rarità gold Infatti Pam Busters Ok la skin di Pam Squadbusters Versione Ghostbusters Tutto quello lì Sarà una skin gold Questo vuol dire Tante ma tante cose Soprattutto in termini di prezzo Perché Fino ad ora le skin Le abbiamo pagate Sempre abbastanza poco Perché fino ad ora Eh ragazzi Tutte le skin Io personalmente Le abbiamo pagate O con i ticketini Quindi gratuitamente Le abbiamo pagate Pochissimo Perché ovviamente Le skin su Squadbusters Costano 2 euro Praticamente Sono poco 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 Meno di 5 euro Poi però ragazzi Alcune skin ovviamente Costano un po' di più Le possiamo comprare nel negozio A 5 euro Tranne che con i ticket Fino a quando L'ultima skin La più costosa Che è mai uscita Fino ad ora È stata la skin Di Maxine Maxine non normale E Maxine Scheggia notturna Questa skin È totalmente diversa In aspetto grafico Ha degli effetti visivi E secondo me Questa skin ragazzi Potrebbe essere gold Sarò sincero Secondo me Doveva essere la prima gold Però in realtà È silver Se noi una skin silver L'abbiamo pagata Quanto? 11 euro Mi è costato 11 euro Questa skin 11 euro Una skin silver Può essere E dico può essere Che le skin gold Costeranno 15 euro O 20 euro Magari per gli effetti Magari per movimenti audio Non lo so Fatto sta che Se abbiamo pagato una skin Silver 11 euro 10 euro Considerando pure Che c'erano 100 baby Dentro Facciamo che l'abbiamo pagata 8 euro Ok? 8 euro di skin Ed era silver Le skin leggendari Saranno molto più rare Quindi secondo me Minimo Minimo 15 euro Forse pure 20 euro Per una skin Personalmente ragazzi Io non sono sconvolto A me va pure bene O meglio no Cioè ovviamente Meno costa meglio è Però sono stato abituato Con clash mini Che una skin Mi costava 50 euro Quindi 20 euro Per me ragazzi È poco No ovviamente Sto scherzando È tanto ugualmente Però rispetto a clash mini È pochissimo Io vi ricordo ragazzi Se non siete disposti A spendere 20 euro Per un personaggio Per una skin Non fatelo Non ce n'è bisogno E non è utile Pure io prima di shoppare Ci penso davvero un sacco Perché non è che È essenziale Avere una skin Dentro squadbusters Poi Io le shoppo Perché ci faccio pure I video sopra Però potrei pure Non farlo tranquillamente Non è che ci Che ci guadagno qualcosa Ma potete mettere Il codice kiri All'interno dello shop Di squad No sto scherzando ragazzi Non ce l'ho il codice kiri Let's go ski Vabbè niente Scusate per questo meme Mi piace sempre farlo Una partitina Per godere Per godere Perché tra due giorni Arriva il nuovissimo pass Che io voglio Voglio sbloccare Non vedo l'ora ragazzi Sono un bot in hype Le skin saranno belle Del nuovo pass Tutto tema halloween E poi tra ormai Ragazzi ormai è finito il mese Non ci posso creare Tra 15 giorni 17 giorni Praticamente Ho sbagliato il personaggio Volevo mettere mevis Tra 17 giorni Due settimane Quasi Tra due settimane Abbiamo il nuovo aggiornamento Cioè vi rendete conto ragazzi Magari abbiamo pure il clan Tra due settimane abbiamo il clan Che ne so ragazzi Sono un bot in hype Un bot in hype Rimanete belli freschi Con la campanellina Su questo canale Per non perdervi mai Mezzo contenuto Su squadbusters Ed essere sempre pronti Ad ogni singolo aggiornamento Sapete con Kirri Non si rischia mai nulla Non si rischia mai nulla Sce lì Perfettina Perfetta Ecco qua Perché giustamente ragazzi Al momento le skin Che abbiamo visto Sono skin molto Medioche Ci sta Sono skin belle Ma non sono niente di che Ok non è che sono skin Di cose volanti Mega fighe Che sbrilluccicano Ogni 5 secondi Skin belle Ma per carità Niente di che ancora Niente di che Forse la più bellina È quella di Maxine Sapete è la più 3 yard È la più fresca Per il resto le altre Sono tutte molto nella media Quindi secondo me Hanno bisogno di aggiungere Qualche skin un po' sbrilluccicosa Piena di effetti Cose fighe Per dare un po' di Di senso Di shopping dentro il gioco Comunque io al momento ragazzi Ho tutte le skin del gioco Cioè non me ne manca una Le ho shoppate tutte Tutte quante Le ho tutte quante Eh sì Ci sta Ci sta Per ora che costano poco E che ce ne sono poche È fattibile Immagino che non riuscirò Per sempre Ad avere tutte le skin del gioco Ma per ora ragazzi Io tutte le skin di inizio game Me le sto shpando Ragazzi vi dirò Non è nemmeno troppo difficile Come situazione Escono un totale Di 8 skin Per stagione Su per giù Le shoppidute Alcune con i ticket Alcune al pagamento Alcune con qualche bundle Che ti dà pure magari Dei baby O qualche skin Emoticon E così via I pass È fattibile Shoppare le skin su Skullbusters È fattibile Non come su Clash Mini Io ancora mi ricordo Che una volta ho speso Ben 15 euro Per la skin del mini pack a PC Voglio ancora spararmi in testa Io non so cosa avevo nel cervello In quel periodo Però vabbè ragazzi Fate finta di niente Per cortesia E non shoppate Non shoppate tanto Shoppate il giusto Per cortesia Non vi dico nemmeno di shoppare Perché tanto non c'è il codice Kiri Quindi non me ne frega proprio niente Fateci quello che volete Vabbè distruggiamoci Sta cassetta Bene Andiamo di Mortis Ottimo Mortis Bello sto Gran Cavaliere Distruggiamo il Gran Cavaliere Perfettissimo Altra cassa Altra cassettina pure qui Andiamo di Pam Che tra poco avrà la skin Tema Squadbusters Perché sarà tipo Ghostbusters Avete presente il film Famosissimo Però Squadbusters Cioè ci sta un bot Carino Un bel gioco di parole Chiavettina di una cassa Siamo prima al momento ragazzi Le sgoschi Ghiaccio Un po' di Energon Un altro ghiaccio Qua lo spammiamo Cerchiamo di non perdere troppo di Andiamo qua con l'alberello Perfetto Vai Pam Si gode Oh baule mostroso Sapete che forse è giunto il momento per Kiri C'è uno che si chiama Mr.T Io ti dico Ti dico Va bene Dammi tutte le gemme Frega ben poco Ben poco Spera che quello là mi sta killando Sto Gran Cavaliere Vabbè Io prendo tutto ragazzi Non so più parlare Già Non so riconoscere più i personaggi E pensa che col nuovo aggiornamento Arriverà la nuova mappa Con tutti i personaggi nuovi Che figo ragazzi Che figo Bea Scarabea Mamma mia Bea Scarabea Ok Oh ecco qua Bea Perfetto Prendiamoci pure la pina Riusciamo a killare un altro baule mostroso Non è affatto male Perché ci facciamo pure magari qualche missione Vediamo Proviamoci ragazzi Comunque lo sciogliamo È solo una questione di non morirci magari Però ecco guarda Ok l'abbiamo killato ragazzi Eh si Però c'è un po' troppa gente Un po' troppa gente Che è c'è Che forse gli killo il personaggio da dietro Ragazzi faccio un po' l'infamino Eccolo qua l'infame Kirri Che gli ha rubato il personaggio Mentre stava combattendo Sai che mi rubo quest'albero Tanto in 10 secondi Non credo di poter fare di meglio Mi distruggo pure sta cassa Top Perfetto Un po' di gemmozze qua al centro Di suggiamo il baule mostroso E si gode Oddio no ragazzi Mamma mia Non l'avevo visto Però stavamo killando Assurdo Win Vi ricordo che siamo quasi Ogni serie live su Twitch Voi seguitemi Tornerò in live Tranquilli Belle Belli sti ticket 170 di un week streak Noi saliamo Di un week streak Pian piano Cerchiamo di non sprecare tutto il gold Perché è fondamentale Comune grandissimo Dammi dei bei Bei contenuti 9 bo Va i ti dirò Va bene Pass Pignata con 3 baby E monete Vabbè e biglietti Facciamo Non facciamoci domande Missioncine Qua prendiamoci questo in mezzo Ci prendiamo ben 4 E il primo Potenziamento a bo E l'abbiamo fatto Potenziamento del primo E l'abbiamo fatto 20 ticket E via Spero che questo vi sia piaciuto Un bel like Iscrizione Campanellina Guardate i video che sono apparsi Qua accanto che sono uno più bravo dell'altro E noi ci vediamo in un prossimo video di Squadbusters Ciao ciao